ciao domande e risposte questa volta solo sullo yoga settimana prossima avremo anche natalia domanda che sull'alimentazione inizio con la mail che mi ha scritto concetta che mi dice che ad aprile andrà in india risikesh per intraprendere un corso di formazione 200 ore molto emozionata e sta studiando il libro teorie pratica dello yoga del maestro ayengar però mi chiede sarà sufficiente credi che prima di arrivare alla scuola sia necessario un livello base fisico conoscitivo e poi mi chiede per esempio se deve aumentare le ore di pratica quotidiana se deve essere in grado di eseguire particolari asana un po più complessi e come era strutturato il mio esame allora do diciamo dei consigli in generale perché non conosco la scuola in cui andrai concetta però sono cose che si applicano un po tutte le scuole quando vi iscrivete a un corso di formazione per insegnanti dovete essere dovete avere la possibilità di entrare in contatto con gli insegnanti quindi poterli fare direttamente le domande sul corso sulla formazione sui libri da leggere e in verità sarebbe buona cosa che fossero per primi gli insegnanti a farvi le domande quindi capire che tipo di pratica avete fatto che tipo di preparazione avete e magari darvi una bibliografia io concetta ti posso dire come è come ho strutturato il mio corso di formazione che si terrà questa primavera inizierà questa primavera in italia io alle persone che fanno richiesta di partecipare mando un questionario e per il questionario è un questionario non conoscitivo per capire qual è la loro pratica se praticano asana se praticano meditazione pranayama che libri hanno già letto che libri hanno già studiato da quanti anni praticano con chi hanno praticato quali sono le loro motivazioni per intraprendere il corso di yoga che qual è la loro idea per conoscerli meglio per dargli anche delle indicazioni prima del corso e una volta che si scrivono io mando immediatamente una bibliografia quindi una serie di libri sulla quale appunto devono iniziare a studiare per arrivare con un livello diciamo che il livello tra tra tutti sia abbastanza omogeneo che sia un livello di base dalla quale io e gli altri insegnanti possiamo partire poi con il corso di formazione ovviamente gli studenti sono liberi di scrivermi scrivermi o scrivere anche agli altri insegnanti per avere delle dei consigli più più specifici per per la loro pratica quindi io quello che ti consiglio è contattare queste persone prima di andare di andare direttamente a risicash e chiedere a loro che cosa che cosa richiedono che cosa è sufficiente che cosa sia necessario per questo corso di formazione in modo tale che potrei arrivare preparata poi gc mi scrive un messaggio su questo youtube ciò sarà nella respirazione mi sembra di non inalare abbastanza poiché non riesco a espandere bene il diaframma a causa degli addominali che tirano quando non avevo gli addominali allenati non mi capitava allora capisco che magari appunto dice di avere gli addominali allenati quindi ai muscoli che sono diventati molto forti molto tonici in ogni caso quello che vogliamo nello yoga è mantenere sia diciamo il tono muscolare ma anche la capacità di diciamo di estendere la muscolatura quindi è importante sia fare asana di che ci aiutano a rinforzare la muscolatura addominale come ad esempio navasana una per tutti quindi la posizione della nave però dobbiamo fare anche esercizi che ci aiutano a distendere questa muscolatura quindi tutti i piegamenti indietro ad esempio la posizione del cammello quindi estendere tutta la parte frontale del corpo quindi magari cerca di vedere se la tua pratica in questo momento non è equilibrata di mettere un po più di posizione di estensione e anche di cercare di avere una respirazione un po più consapevole quindi non stai indossando un busto cioè sicuramente se metti un po più di consapevolezza nell'abbassare il diaframma e espandere l'addome sicuramente vedrai che poco per volta risulterà comunque naturale poi laura mi scrive ciao Sara volevo sapere se c'è un collegamento tra la pratica legata ai cinque elementi terra aria fuoco e acqua ed etere e le stagioni e se la pratica secondo delle stagioni si deve modificare allora io ho fatto l'ultimo 30 30 di secondo livello lo abbiamo dedicato ai cinque elementi quindi ogni lezione era dedicata a uno dei cinque elementi anche le meditazioni del corso erano ispirate ai cinque elementi questo vuol dire che ogni pratica era focalizzata su determinate posizioni magari più posizioni di radicamento o posizioni più di equilibrio oppure era una pratica molto più fluida quindi un classico viniasa con dei movimenti molto armonici tra una posizione e l'altra questo per rendere la pratica un po più variata un po più divertente anche spero che almeno che lo sia stato dai vostri commenti mi sembra di aver capito che sia stata gradita questa scelta a mio parere la pratica va dovrebbe seguire anche le stagioni soprattutto appunto a seconda del sempre seguendo le nostre necessità quindi durante l'inverno durante la l'estate dobbiamo cercare magari di cambiare la pratica a secondare il ritmo magari di inverno abbiamo bisogno più di una parte iniziale di riscaldamento più intensa per riattivare per riattivare la nostra energia d'estate possiamo avere una pratica magari un po più più tranquilla quindi è ovvio che magari anche nella scelta della della tipologia della pratica no ci sentiremo magari più simulati a fare delle posizioni magari di radicamento che sono più calme perché dobbiamo affrontare una giornata magari molto calda quindi il mio suggerimento sempre di base lo so che può sembrare molto vago ma è quello di ascoltarsi davvero ed è una cosa che impariamo col tempo quella di sentire ok cosa di cosa ha bisogno il mio corpo in questo in questo momento no e quindi sì senza avere crearci delle delle aspettative ma praticare per sentirci bene quindi per adeguarci al cambiamento che può essere insomma stagionale anche insomma tutti i giorni cambiamo un po poi super poll un altro messaggio cosa ne pensi del metodo di vim off e della sua tecnica di pranayama allora a dir la verità ho scaricato qualche tempo fa il corso di vim off per chi non lo conosce vim off è un un signore olandese che ha creato questa questo corso che potete scaricare dal suo sito e lui praticamente dice che con una facendo determinati esercizi di respirazione riusciamo a diciamo mantenere uno stato di salute migliore nel nostro corpo e controllare il nostro corpo anche in situazioni estreme e lui per fare questo esempio ha fatto delle delle situazioni si è messo in situazioni estreme ad esempio essere immerso in una vasca piena di ghiaccio per diverso tempo questo esperimento c'è proprio un video di lui all'università di non mi chiedete dove non me lo ricordo dove mentre era chiuso in questo sommerso in questa vasca di ghiaccio venivano comunque testate le sue diciamo il suo battito cardiaco notando che non non aveva problemi semplicemente appunto facendo questo tipo di respirazione quindi io ho provato il corso non l'ho ancora terminato l'impressione iniziale lui è molto rock come personaggio diciamo che non spiega moltissimo ma è più che altro di ciò che devi iniziare a provare il suo tipo di pranayama non mi sembra molto strutturato e non mi piace tantissimo il fatto che comunque lui respiri io ho provato e appunto hai la sensazione dell'iperventilazione quindi la testa leggera e mi è sembrato di la sensazione che ho avuto era quella di sentirmi un po' a disagio un po' di essere sotto stress ecco non una sensazione piacevole però sì chiaramente senti di più l'energia poi lui ti fa fare degli esercizi di estensione onestamente voglio vedere come sarà alla fine del corso perché poi una cosa che bisogna fare è tutti i giorni iniziare a provare un po' a farsi una doccia fredda quindi non lo so forse anche perché adesso è inverno quindi lo sto trovando un po' troppo però come tutte le cose va provato e penso che sia molto insomma soggettivo io mi trovo molto meglio con degli esercizi di pranayama anche intensi come kapalabati o bastrica che quindi sono comunque delle respirazioni molto forti però mi sembra che siano più controllate mentre con forse la cosa che l'unica pecca diciamo nel suo programma è che manca diciamo un po' di più di spiegazione più sottile ecco nella tecnica tutto qui poi gloria mi chiede ciao sarah cosa te ne pare dei corsi yoga in fascia che stanno diffondendo per mamme e bimbi piccoli della 012 a me sembra che ogni cosa dovrebbe avere il proprio tempo cioè meglio che una mamma si prenda 30 minuti per sé piuttosto che fare yoga col bambino addosso guarda gloria non lo so non saprei perché io non sono mamma però quello che mi è capitato di insomma di vedere o anche appunto ragazze che mi scrivono è che effettivamente per una cosa e per l'altra non riesco è proprio difficile difficile trovare il tempo per sé sia quando il bambino è piccolo piccolo sia quando i bimbi sono un po' più grandi che in teoria magari dovrebbero essere un po' indipendenti però ci sono molte mamme no soprattutto col 30 a 30 l'ho notato che mi dicono mi sveglio alle 5 di mattina è l'unico momento che tutti dormono allora io posso fare yoga è veramente difficile per molte mamme trovare del tempo per loro stesse quindi mi rendo conto anch'io che l'ideale sarebbe prima di tutto che anche i papà no prende per mezz'ora caspita almeno potrebbero prendere il bimbo con loro però tra l'ideale e la pratica mi rendo conto che insomma sia molto difficile quindi se questa è l'unica possibilità insomma che ben venga poi Pasquale mi chiede è normale sentire qualche volta formicolio nella fascia plantare in posizioni del tipo paschimotanasana è normale in generale a volte poter sentire formicolio io quello che suggerisco sempre è uscire un attimo dalla posizione cambiare, muovere un attimo, massaggiare se si tratta dei piedi massaggiare bene i piedi e poi rientrare nella posizione non succede niente se sentiamo formicolio non ci si staccano le gambe o i piedi basta fare un piccolo massaggio e siamo a posto Carmen mi scrive per la pratica dello yoga l'alimentazione deve essere per forza vegetariana è un suggerimento quello di iniziare un'alimentazione vegetariana non deve essere un obbligo quindi non è scritto nella pietra se non hai un'alimentazione vegetariana non puoi fare yoga ci sono diverse indicazioni, suggerimenti che appunto portano a far preferire l'alimentazione vegetariana io quello che ti posso suggerire è comunque di se vuoi iniziare a seguire un'alimentazione vegetariana per muovere i primi passi fatti seguire da un dottore una dottoressa nutrizionista per evitare carenze poi l'ultima domanda Sara mi scrive perché pratica ashtanga yoga da un paio di mesi due volte a settimana e nonostante l'impegno gli esercizi quotidiani non riesce a mantenere posizioni quelle di equilibrio ad esempio mi scrive che è un momento molto difficile e mi dice mi chiedo quindi non riuscire a mantenere una posizione che va a influire sul corretto riallineamento rifaccio non riuscire a mantenere una posizione va ad influire sul corretto riallineamento dei chakra ottengo lo stesso i benefici della pratica in pomeriggi come ieri mi sembra di non concludere nulla come posso migliorare il mio equilibrio allora l'equilibrio è un equilibrio tra la nostra forza fisica la capacità di mantenere proprio fisicamente la nostra struttura in una posizione che diciamo non è quella eretta normale e la nostra concentrazione la capacità di con la mente avere sotto controllo tutto il corpo corpo che non è mai fermo al 100% quindi dobbiamo sempre ribilanciarlo nella posizione di equilibrio se stiamo passando un momento emotivamente stressante è probabile che anche se non consciamente la nostra mente sia impegnata con qualcos'altro quindi non riusciamo a a praticare al 100% e ce ne rendiamo conto soprattutto nelle posizioni di equilibrio dove insomma sono un po' la prova la prova del 9 quindi magari quello che potresti fare è introdurre un momento più dedicare un momento all'inizio della pratica a un momento di concentrazione magari cantando un mantra o anche ascoltandolo però dare un po' più di tempo alla tua mente di staccare da tutte le problematiche del quotidiano con cui sta insomma sta avendo a che fare per poterti dedicare a immergere di più nella tua pratica la pratica della meditazione ci aiuta davvero molto nei momenti più emotivamente difficili quindi cerca di insomma dedicargli un po' più un po' più di tempo se riesci all'inizio della pratica di Ashtanga non so se pratichi in un centro o magari in generale nella giornata anche 5 minuti veramente bastano per sentire la differenza bene queste erano le domande di questa settimana noi ci vediamo settimana prossima anche con Natalia le domande le potete scrivere qui sotto nei commenti oppure mandarmi una mail a info chiocciolalashimayoga.com a settimana prossima namaste a settimana a settimana Grazie.